Voi alla neve siete abituati? Certo, siamo abituati, è normale, anzi, è meglio quando ci sta la neve, è il giorno della neve, ora dovrebbe esserci la neve. Così gli abitanti di Guardia Grele, che alla neve sono abituati, è sceso il gelo sull'Abruzzo e i Balcani hanno fatto la loro parte con nevicate pure a quote basse. Sì, sì, a noi la neve è dai Balcani, quando fa neve è quando viene dai Balcani, perché se viene dalla montagna è poco la neve che ci colpisce, a noi ci colpisce forte dai Balcani. In provincia di Chieti, è precisa il presidente Mario Pupillo, la situazione è stata monitorata da un vertice in prefettura. I comuni più interessati dai fiocchi bianchi sono Pizzoferrato, Gamberale, anche Lanciano è imbiancata, con la caduta al suolo seppur di pochi centimetri. Fiocca nei confinanti comuni del Vastese, Montazzo, Castiglione, Messer, Marino, un metro di neve, addirittura Schiavi d'Abruzzo, dove c'è stata anche una tormenta. Nevica a Casoli, a Tessa, Palena e, come abbiamo visto, a Guardia Grele, dove siamo stati con la telecamera di Luca Corneli. Voi siete abituati alla neve? Sì, sì, stiamo in montagna, Rocca Montepiano. Beh, allora vi lascio andare, buon proseguimento. Grazie, anche a voi. Sì, siamo abituati, però non pensavo così, non ci crederemo tanto. Oltre 100 precisa pupillo e mezze impegnati sulle strade provinciali per ridurre al minimo i disagi, ne vischio anche a Chieti città. E proprio alla luce delle previsioni meteo che indicano neve, soprattutto sulla costa, nelle città poco avvezze ai fiocchi bianchi si è registrato un vero e proprio assalto ai supermercati per accapararsi in particolare generi alimentari. E c'è chi da buon guardiese. Vabbè, questa è la diseducazione che c'è, in quanto ufficialmente, alla fine non è che sta scoppiando una guerra, è un po' di neve che fa bene anche all'ambiente e di conseguenza noi dobbiamo essere preparati a questo. Ci sono diversi comuni che hanno poi attivato i COC, i centri operativi comunali. È possibile reperire informazioni anche sulle pagine Facebook e sui siti istituzionali. E ci sono i consigli di sempre. Limitare l'uso dei veicoli che devono essere comunque muniti di gomme, invernali o catene a bordo. Evitare il parcheggio selvaggio che potrebbe compromettere le operazioni di sgombero da neve o di parcheggiare in prossimità degli alberi per scongiurare danni causati dalla caduta di rami. Verificare il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento. Proteggere i contatori dell'acqua con apposito panno in lana. Controllare di avere scorte di medicine che si consumano quotidianamente. Tutto sommato è inverno e dunque la neve ci può stare. Non è che stiamo al di là di un'altra situazione. Stiamo in Abruzzo. Quindi natura insegna pure a poterla proteggere. Questa è secondo me una forma anche di protezione direttamente naturale.